Tutto il mondo nero azzurro si dà appuntamento ogni giovedì sera in diretta alle ore 21 Buon giovedì, bentrovati, bentornati, bentrovati Ben, 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 benua, tutto ben questa sera Aspetta, non tocca ancora a te, non prevaricare, voglio fare come Monzani Roberto Monzani, buonasera Io veramente non ho fatto nulla, io non ho fatto nulla Opinionista Formula 1 per Sky, questo possiamo dirlo Sì, va bene Opinionista, fresco vincitore, si può dire E dillo Diciamo, perché insomma c'è un premio giornalistico molto importante Intitolato a un grande della storia del giornalismo, qual è Beppe Viola E vince il premio Viola quest'anno questo signore qua, Leo Turrini Personalmente lui Eh grazie, guarda, non mi dimentico Parliamo di FC Inter News Questa sera abbiamo il direttore, che è qua con noi Fabio Costantino, ben arrivato Buonasera Abbiamo avuto modo di conoscere alcuni dei tuoi ragazzi nelle puntate precedenti Questa sera abbiamo piacere di averti qua Eccomi Ben arrivato, ben arrivato Bentornato anche a questo giovanotto Ieri campione a tutto campo Guarda cosa mi ha scritto Monzani su di te Ieri campione a tutto campo dell'Inter targata Gigi Simoni Tutto campista Peccato che ha giocato anche con altri allenatori Comunque Oggi apprezzato e vincente allenatore del nostro settore giovanile Ha detto bene? Benua Coe Grazie Una piccola parte anche della tua carriera ricalciatore Te lo ricordi quando hai giocato? Sì Post Inter No, no perché magari non so ricordare Non lo ricordo sì Mi ricordo una bella esperienza Dove sono entrato anche in una squadra con una storia incredibile Sono stato fortunato nella mia carriera Di poter avere questo tipo di opportunità E poi me lo ricordo perché sono ancora una volta Lo dico perché tutte le volte me lo dicono I tifosi del Toro che sono l'unico L'ultimo a aver fatto gol nel derby E sono 13 anni o 12 anni che sono Per questo che me lo ricordo L'hai finito o hai fatto gol? No, hai finito 2-2 Il famoso Malesca con le cone Questo gol mi vale che sono ancora lì A avere questo premio Perché il Toro non ha fatto più gol E come ha il record di Venezia sui 200 anni? È una maledizione È una cosa È una cosa incredibile Infatti io Calvarese E questo signore qua di Teramo Abbiamo visto che l'ultima è Udinese Inter di Coppa Italia È quello che si è esibito in questa decisione È riuscito a far arrabbiare Milito Che è uno che non si arrabbia mai Ricordiamoci tanto Just to remember Questo è l'episodio Due episodi clamorosi Un gol che viene annullato per un presunto fallo Che ha visto solo lui E poi c'è questa trattenuta di Domizzi Detto il mascherina in quell'occasione A Milito Che nessuno ha visto Ecco questo è l'ultimo Uno dei tanti episodi di questa stagione Questo diciamo ci ha eliminato dalla Team Cup Questa partita Perché questo qua è un episodio dove si arriva al gol E qua viene fermata l'azione Per un fallo del portiere su un compagno di squadra Però hanno fischiato Il classico fallo di confusione Questo qui Occhio che la dicitura fallo di confusione Mi riporta proprio agli anni del regime La parola fallo di confusione Mi mette un'ansia Mi ricordo i bei tempi di Cannavaro al Parma Tipo Juve Parma Che non si capiva cosa aveva fischiato Il fallo di confusione De Santis Però insomma per dire Bocca al lupo a Calvarese Cannavaro a Juve Di Santis L'ultimo precedente con noi Non è stato proprio Dei più felici Dei più felici Mourinho Mancini Mourinho Scarpini dice che in realtà sei mio zio Confermi? Ma ho qualche dubbio Persino più esteso sulla paternità Il giovane su cui punti di più Nell'Inter Ma oddio Il giovane su cui Punto di più Boh 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 Sai che non me ne vengono in mente tanti In questo momento Il giocatore che è amato di più Bene l'Inter Ronaldo Quello del 97-98 Invece il pilota con cui ha avuto Il rapporto migliore Di Formula 1 Molto mondiale Certamente è stato Senna Perché lui Era venuto in Italia da ragazzo Per correre nei kart e aveva un amico, un fotografo di Bologna, emiliano come me, che me lo presentò quando io iniziai a scrivere di Formula 1 e Ayrton era già famoso, Senna si fidava moltissimo di questo fotografo e quindi nacque fra di noi un'amicizia, insomma una compartecipazione emotiva molto intensa, poi il destino ha voluto che proprio io lo dovessi accompagnare a casa vent'anni fa dopo l'incidente, perché il giornale mi mandò a seguire il funerale a San Paolo e a Parigi, quando ci imbarcamo per il volo a Parigi-San Paolo, il comandante dell'aereo ci disse per leggere salme debbano viaggiare nella stiva, ma lui per lui è un eroe nazionale, abbiamo tolto quattro fili in business e viaggia con voi, e fu una cosa devo dire toccante, incredibile, una veglia funebre a 10.000 metri di quota, e poi quando arrivamo là c'erano 5 milioni di persone per strada ad aspettarlo, perché lui veramente non è stato soltanto un fuoriclasse dell'automobilismo, ma era anche un grande uomo con una sensibilità per le esigenze dei più poveri e dei più deboli nel suo paese, gli aiutava senza farlo sapere, quindi devo dire che è stata per tutti noi, per l'ambiente in generale della Formula 1, una perdita incolmabile, e per me è una ferita ancora aperta, io dopo quel giorno, un omaggio del 1994, volevo smettere di scrivere di Formula 1, per dispiacere il dolore che ho provato. Sono ironi, il vento come sopra nome magari al primo allenamento, un giocatore che andava in velocità mai visto, superassonica, ma è di una tecnica talmente affinata che era impossibile da prendere. Mi raccomando, mi raccomando, due cose fondamentali, compriano dell'Inter, quindi mandateci tanti auguri, che poi noi li elaboriamo, li elaboriamo, ma andateci anche dei filmati, avete col cellulare, fate un filmato, vi inquadrate, ce lo inviate e poi noi li trasmetteremo nel corso della giornata di domenica e poi approfittate o voi donne di questo regalo che l'Inter vuole fare in occasione della vostra festa, se magari non ci pensa vostro marito, cosa che capita ai mariti solitamente, e ci pensa la nostra Inter a fare un bel pensiero a tutte le donne. Buonanotte a tutti! Prova Inter Channel e poi scegli Sky, liberi di...